Il Sala Consilina termina il campionato di serie D2 con una bellissima vittoria, chiudendo così una stagione sicuramente difficile ma di grande crescita. Il team di Mr. Tonino ha partecipato per la prima volta ad un campionato ufficiale, incontrando tanti momenti difficili ma anche grandi soddisfazioni, tra le quali indubbiamente rientra l'ultima vittoria. Dopo un ginone d'andata improntato ad acquisire esperienza e sicurezza, il ginone di ritorno ha portato i risultati sperati, a conferma del buon lavoro fatto. Il match di chiusura del campionato di serie D2 finisce così, Sala Consilina 5-Sapri 2, una vittoria che è sicuramente di grande auspicio per il prossimo campionato.